Buonasera a tutti i telespettatori e benvenuti ad una nuova edizione del TG Niente Di Nuovo. Partiamo con lo sport. Dopo la rissa scattata sul finale di Inter-Atalanta, i giocatori, dapprima accusati di antisportività, si sono difesi, dichiarando che i loro gesti erano soltanto una emulazione della serata di WrestleMania che lo stesso giorno si stava svolgendo in America. Passiamo ora ad una notizia internazionale. Il famoso autore Ciro Oda, creatore della famosissima saga One Piece, è andato al cinema a vedere l'ultima pellicola di Iron Man, il terzo capitolo della famosa serie. Intervistato dopo la visione del film, ha detto La pellicola mi è piaciuta particolarmente, ma alla fine è apparsa una scritta che non ho capito molto bene e mi ha destabilizzato perché non so che cosa intendesse dire il regista. Dopo varie indagini si è scoperto che la scritta incriminata era The End. Bene, parliamo ora di Internet. Gli utenti di YouTube, soprattutto quelli più famosi, si sono lamentati con il famoso sito di video sharing per l'eccessiva pubblicità messa nei video. A queste accuse, YouTube ha risposto mettendo un video di risposta appunto sul suo canale ufficiale. Però, quando si tenta di visualizzare il video, dice Attendere prego 30 secondi, mentre stiamo caricando il video guardate la pubblicità. Bene, e dopo aver parlato di argomenti più leggeri, passiamo alla politica. Ultimamente, Bersani, dopo le consultazioni, è stato spesso visto girare con, da una parte Berlusconi e dall'altra Monti. A questo punto tutti si chiedono che fine abbiano fatto il Samurai e quello col cappello sugli occhi che fuma la sigaretta che non finisce mai. Bene, questa era l'ultima notizia e vi salutiamo ricordandovi che succedono sempre un sacco di cose, ma in fondo non succede mai nulla.